Allora, buongiorno, da Italia Azzurro 4, Victor Cab XR, attivazione sciolta, Monte Pelpi, 1500 circa. Si parte dal Passo Colla a 950 metri e un bel sentiero per circa 5 chilometri fino alla vetta. Stalbeggiando sono le 7 e un quarto. Allora, buongiorno, da Italia Azzurro 4, Victor Cab XR. Siamo a metà strada. Allora, lago Fogata, questo, che è una referenza del diploma laghi italiani e poi il sito è anche referenza per diploma italiano archeologico. Allora, non è stata dura salire fino qua. È il problema che la strada è una lastra di ghiaccio e ovviamente non c'è i ramponi. E quindi bisogna viaggiare col culo parato. Comunque è un spettacolo. Ok, siamo insieme, prendo fiato. Diamo un'occhiata al panorama che è uno spettacolo. Bardi, Pizzodoc, Barigazzo, il Molinatico là. Poi di là tutta la Toscana. Allì, e qua si gira, si passa in deguria. Perfetto, Italia Whisky 1, Eco Victor Uniforme. 5-9 per il log Italia, Eco Romeo 3-0-9. QSL. Golf 0, November Zanzibar Italia. Golf 0, November Zanzibar Italia. Thank you, my friend. 5-5, 5-5, 5-5. Thank you, bye bye. Oscar Eco 7, Papa Hotel India. Roger, Oscar Eco 7, Papa Hotel India. 5-9, QSL. 5-9, QSL. Whisky, bravo November. Allora, Whisky, bravo November. Prego, avanti. Roger, many days, good morning. South South 4, Whisky, bravo November. Also 59, Roger. Roger, my friend, your report is 5-9 over 20. Real 5-9 over 20. Thank you, bye bye. Eh, molto grazie. Ciao, arrivederci, buona fortuna. Italia, chilometro 2, India, Lima, Hotel. Roger, Italia, chilometro 2, India, Lima, Hotel. 5-9, potentissima la modulazione. A te. Eco, Alpha 2, Charlie, Kilowatt X-ray. Corretto? Oscar Mike 1, America X-ray. Oscar Mexico 1, America X-ray. Roger, Oscar Mike 1, America X-ray. 5-9. Hotel Bravo 9, Mexico, Kilowatt Victoria. Roger, Hotel Bravo 9, Messico, Kilowatt Victoria. 5-9 reali. 5-9 reali. Nome operator Alessandro. Attivazione Sota. Italia Eco Romer 309. QSL. Allora, Sierra 5-7, over. Sierra 5-7, India, Lima, Foxtrot. Good morning. You call me 5-9. 5-9. 5-9. 5-9. 5-9. 5-9. 5-9. 5-9. 5-9. 4-5. 7-9. 5-9. 5-9. 5-9. 5-9. Sierra 5, over. 5-9. Sierra 5, over. 5-9. 2-9. 6-9. 5-9. golf delta bravo corretto roger roger 59 many many qrm many many qrm sorry my friend bye bye 73 e roger hotel bravo nine charlie lima tango 59 59 anche per eco alfa 2 italia foxtrot qsl o buongiorno valle d'aosta io sono su una montagna un pochettino più bassa italia xray 1 italia hotel radio 59 qsl roger italia chilotto victor radio oscar e grazie per la pazienza scusa ma se se il tedesco poi mi si arrabbia mi invade l'italia hi a te il cambio allora italia tango 9 avanti o buongiorno italia zullo 5 charlie papa chilo appena al di là dal monte 59 qsl e roger eco alfa 7 bravo oscar is correct allora io sento un italia zelanda 5 claudio interrogativo oh finalmente qualcosa di ascoltabile india uniforme 1 oscar papa quebec 59 reali perfetto ok italia venezia 3 golf victoria yankee corretto roger roger delta lima 8 delta xray lima 59 qsl roger oscar chilo 2 papa delta tango 59 qsl roger oscar chilo 2 papa delta tango 59 qsl roger 59 for you my friend thank you bye bye roger oscar november 4 charlie bravo 59 reali e 59 reali grazie ciao buona domenica good sunday italia zelanda 1 delta mike eco oh porca puttana se ti ascolto italia zelanda 1 delta mike eco mi sfondi mi sfondi le smiter 59 più 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 20 qsl e mike zero bravo oscar bravo qsl italia uniform 3 golf e chilo giuliette 59 qsl ok hotel bravo 9 eco florida giuliette 59 anche per te ciao allora spero di aver copiato bene italia zulu 3 zulu tango victor corretto 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 59 corretto qsl 59 dalla domenica di riana 5 k2 november bravo whisky italia chilo 2 november bravo whisky 59 qsl qsl sierra papa nine tango chilo whisky five nine thank you bye bye roger eco alfa 2 eco victor mike 59 qsl roger italia uniform 1 oscar papa q e back 59 qsl 5 e 5 per te grazie buon attività mi ripassi il tuo nominativo completo per corte via certamente italia zulu 4 victor kenex sierra ovvero vinco quasi sempre qsl voglia dire italiano alfa radio lima 59 qsl b roger italia zulu 0 alfa radio lima 59 qsl 0 kilowatt hotel yucatane ciao 59 anche per te ciao ok italia chilo 4 delta radio yokohama 59 buona domenica ciao qsl italia chilo 5 bravo charlie mike 59 qsl allora italia 2 xilofono india papa corretto